E' stato un ripasso, la balla è arrivata a Sanchez in area di rigore, molto bravo a battere e sul ritorno di Gagliolo, che è riuscito a strappare il pallone dalla rete, ma è gol, ufficiale? Più 6 dell'Inter, piano, piano, con calma. Ma lui non guarda neanche il più 6, per noi la cosa più importante è il più 10. Attenzione a Lukaku che parte, è partito Lukaku, è partito Lukaku, ne ha tre giorni, che bella palla per Sanchez, è un gol, è grandioso, è grandioso, è grandioso, con il tuo piede di Sanchez, è grandissante, è grandissante, è grandissante, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0. E' partito! Il più grande attaccante del mondo! Il più grande attaccante del mondo, un partenza devastante di Lukaku, se tu concedi questo a Lukaku, cosa fa Lukaku? Arriva qui e poi la mette a Sanchez, non calcia, perché intelligente è qui Lukaku, Sanchez da solo, gol! 2 a 0! Inserimento di Pezzella, in area di rigore! Eccolo là! E il gol del Parma! Eccolo là! Eccolo là! Eccolo! Il mio pronostico si avvicina ragazzi! Ai ai ai! Gol di... Che festeggia col pallone sotto la pancia! Segnato dal Parma, al minuto 70, anzi 71 esito, Ernani! Ernani! Di chi è la colpa? Che era quello di Bastoni! Vai Lautaro! E' finita! Dai che è finita! E' finita! E' finita! E' da finita! E' da finita! Parma-Inter 1-2 e fuga! 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 Grazie a tutti.